carissimi amici del bar bentornati mega bomba news sembrerebbe che anche il mitico essio di cui parliamo tutte le volte sia giunto al termine allora c'è stato uno studio di jumpshot che praticamente un click streamer in pratica mette insieme i dati colleziona dati e ai dati di più di 10 milioni di device siamo obbligo e fissi quindi testo laptop smartphone eccetera eccetera allora sembrerebbe che più del 50 per cento non saliva ancora 51 dei risultati su il motore di ricerca google non portano a nessun click bomba strappiamoci i capelli praticamente quando noi mettiamo una bella parola chiave e diciamo quali sono le telecamere o le fotocamere migliori per fare vlogging questo può perché fare un altro video riguardo per salvare il portafoglio più che altro invece che andare a cliccare su uno dei siti perché siamo attratti dal dal titolo e quindi dal meta title google file knowledge snippet e quindi estrae quello che potrebbe essere una parte di testo che a noi interessa per darci la risposta quindi top camera for vlogging eccetera eccetera estrae primo pezzo classifica 1 2 3 se a noi ci va bene quello ci fermiamo là poi scrollando sotto magari appare qualche altro risultato magari lo stesso sito non è il sito che appare per primo perché quella è la posizione ormai che viene chiamata zero poi ci sono gli advert e poi comunque c'è la posizione prima dell'organico che non è detto che sia lo stesso sito questo perché questo è chiaro che google ormai vuole un po come altre compagnie come per esempio amazon ci andremo in un attimo vuole che rimaniamo il più possibile sulla pagina di del motore di ricerca quindi dei risultati prima cosa perché da quando poi ha tagliato le palle al keyword planner perché molti lo usavano per la ricerca dell'equivo per l'SEO per la ricerca organica invece quello è stato ideato per vedere i volumi più o meno precisi per fare delle campagne ppc adwords ha tagliato le gambe a quello in due modi non dando più i risultati precisi ma in un range d'azione se non si ha una campagna ppc attiva e mettendo un muro davanti facendo risultare difficile l'iscrizione a google adwords per usare il keyword planner se non si ha una carta di credito che però è ovviabile mettendo registra dopo ma è molto piccolo quel link bene una volta che siamo arrivati lì sulla pagina principale è ovvio che google vuole farci rimanere lì sopra perché il target finale di google è quello di far cliccare sugli adwords che guarda un po il click medio è aumentato siamo arrivati a un buon più 3 per cento perché questo per due motivi intanto col fatto del knowledge snippet ci fa rimanere la e soprattutto mettendo gli adwords non so se l'avete notato ma gli adwords adesso sono o almeno sembrano risultati organici c'è la scritta pubblicità ad piccolino e nero prima era verde prima ancora c'era la barra gialla come per dire hey questo è un adwords allora apri di cielo perché comunque tutti a fare SEO perché quello qua è giallo sta lì primo in classifica perché pagano ma in realtà non è un risultato buono e allora tutti a menarcela perché se stiamo lì in risultato organico allora siamo più intelligenti di chi paga come uno stronzo in posizione numero uno in realtà vogliono tagliare le palle alle SEO e allora c'è solo un'alternativa e cioè cercare di diversificare la situazione prima cosa quindi non puntare tutto sulle SEO come molti dicono perché quello è soltanto un canale così come i social media se i social media cambiano idea o cambiano natura ecco fatto che se tagliamo tutto ecco fatto che ritorna di moda lo stesso discorso che faccio sempre tutte le volte che quello l'importante avere un proprio sito una propria proprietà no e non basarsi su altre piattaforme e soprattutto una cosa che potrebbe essere interessante intelligente cercare di convertire maggiormente quella posizione zero con un call to action o qualcosa che comunque induca il l'utente a cliccare il nostro benedetto sito perché se il ogni pagina del nostro sito è stata creata per poi convertire ecco fatto che col rich snippet ciao covere ok e soprattutto andare a cercare keyword con un click through rate più alto il click through rate è quella percentuale di visualizzazioni barra click per vedere in percentuale quante visualizzazioni vengono fatte quanti click in base alle visualizzazioni vanno penetrano il motore di ricerca e quindi arrivano al nostro sito quindi tutti quelli che ci amenavano ecco vogliono arrivare a questo tutti i mega ninja expert dell'SEO no che dicevano come cercare di arrivare in posizione zero brutti coglionazzi non avete capito e quando ve lo dicevo ridevate che la posizione zero in realtà sta tutta a favore di google perché chi sta in posizione zero e quindi si vede straporare i dati messi in prima pagina vuol dire che ha dei una riduzione dei click maggiore allora finché lo dico io lo stronzò qualunque niente lo dice jumpshot che conduce campagne basate su 100 milioni 100 milioni di device raccoglie dati e vede cazzo questo knowledge snippet preso ed estratto produce meno click attenzione allora oh e adesso come facciamo adesso tutti a fare guide su perché è importante non essere in posizione zero oh e che facciamo adesso bene quindi cerchiamo di diversificare facciamo un po' di ppc se ce lo possiamo permettere se abbiamo il borsellino vuoto invece andiamo un po' di social media social network prendiamo quei coglionazzi degli influencer ma soprattutto cerchiamo di arricchire ciò che abbiamo in mano quello che abbiamo in mano vuol dire avere il controllo della situazione come si ha il controllo della situazione avendo un proprio sito avendo una newsletter avendo un sito che magari riesce a far registrare in maniera armonica l'utente per avere poi una notifica quando un blog post è online oppure un canale youtube l'importante però è focalizzare non per aumentare il numero di chi ci ascolta ma per dare valore aggiunto se il valore aggiunto c'è la pacca sulla spalla ce la danno se il valore aggiunto non c'è col cazzo che ce la danno stessa cosa guardate è facile allora il marketing è basato su è una situazione persona con persona le persone comprano dalle persone guardate cosa fa amazon tutti a dire arrivo primo in classifica amazon vendo le mie batterie ma cosa fa amazon? quando vede che le batterie della minchia cell sono costano poco e vengono vendute cosa fa amazon? prende le batterie e se le fa se le fa lei va a prendere batterie e ci mette ci stampa il suo logo così perché? perché vede che la ricerca delle minchia cell delle batterie per che cacchio ne so telecamere va molto e le fa lei quindi alla fine no? siamo tutti in balia di una piattaforma fino a che anche su amazon uno non capisce che quando il cliente compra la nostra batteria poi il quando il cold prospect no? diventa warm e da warm diventa hot e ha comprato è più facile convertire un hot prospect che ha già comprato da noi quindi mandiamogli un biglietto da visita cerchiamo di integrarlo facciamolo rimanere nel loop della conversazione non prendiamo i soldi ce li intaschiamo e ciao perché è più difficile convertire uno che non conosciamo da uno che già conosciamo ed ha apprezzato i nostri servigi ok? quindi mi raccomando è tutto la è tutto il il following il second step non fermiamoci al primo una volta ci siamo fatti il culo per portare qualcuno verso la nostra casa invitiamolo a rimanere un po' di più con del valore raggiunto un bonus un qualcosa un reward va bene mi raccomando share if you care iscrivetevi al canale se avete domande e soprattutto avete finito i capelli da strapparvi vi posso anche consigliare un buon dottore i turchi fanno paura per queste cose ciao alla prossima grazie a tutti i nostri